Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un giro di prova di circa mezz'ora su un aereo militare supersonico in grado di trasportare testate nucleari. Il velivolo, una versione modernizzata del TU-160M, si chiama Ilia Muromec. Il giorno prima il presidente aveva ispezionato un simile vettore missilistico nella fabbrica ed era salito nella cabina di pilotaggio al timone. Questa è davvero una macchina nuova, nuova sotto molti aspetti. Si manovra meglio, si può vedere anche ad occhio nudo e inesperto, ha detto Putin, a un gruppo di giornalisti statali al termine del volo di prova. L'apparente dimostrazione di forza arriva due giorni prima che Mosca celebra il secondo anniversario del suo attacco militare all'Ucraina, dove sta cercando di guadagnare nuovo slancio.